buonasera ragazzi oggi benvenuti papà cosa la partita supercoppa italiana 2020 non giocata in italia però giocata in arabica a riad 2 riad e papà però secondo te quando potrai finire la parla partita oggi un 2 a 0 penso io per perché per l'indale certamente siamo in interesse e ci posso dire però martinez e gioco secondo me la partita fino sul risultato di di 3 a 2 con gol di gioco barella e michi italiani gente del milan segnerà girù e poi e poi de kettler forza inter sempre tira a a a a a a a seiii seiii eeeh eeeh quali della giurro no sado da battere per l'organizzazione ecco ecco ammuntare muovo per quanto il palo alberto anche la canzone il tuo pallone forza il cazzo pollo per se muovano le quali l'uomo ma l'ha detto la verità rosa 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 il gioco ma non c'è il nuovo patate il tuo muoio possibile possibile fuori gioco GOL! GOL! Sì! E' GOL! 1 a 0! Cangeva il pallone! Cangeva il pallone! Cangeva il pallone! Cangeva il pallone! Che ce la prende questo pallone? La metto all'astra! Hai detto! 1 a 0! Sì! 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 Dio! Sì! 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 b ehi ecco ecco ehi ehi ma ma non è che non è che non è che non è che guarda 2 già due pire due pire già già due pire ecco ecco già due pire due a zero due pire due a zero beh ragazzi è finito il primo tempo come è andato il primo tempo ragazzi abbastanza bene abbiamo bene i costi però non è che non è che è la cosa che sei ok ecco ecco ti ho detto non guarda è che è che è che adesso siamo sempre Amala sempre! Questa è la terza, ora mi fa il quarto! E io sono sempre bello! Io sono sempre bello! Treppine! 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 Vado a mia manetta! Treppine! Treppine! Treppine ragazzi! Treppine! Sì! Sì! Maresca! È finita! È finita! È finita! È finita! È finita! Ciao milanisti! 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 Cicc! Ecco il più! Cicc! Amaluu! Cicc! Cicc! Ticc! 3 pere, non hai sti? 3 pere! 3 a 0! 3 pere! 3 pere comunque! C'è t'accordo! Abbiamo 3 a 0! Andate a dormire! Allora, t'accordo! 3 pere! Eh... Ah, si? Eh, 3! Che... Che 3 dice, bro? Ecco... Ah, mi stai non pulito! Ma che se... Eh, 3 dash! Siamo stai non pulito! Siamo... 3 pere! E siamo... 2 anni di... 2 anni di... 2 anni di... Stai dopo, Matteo! E, Matteo! 2 anni di... Stai dopo! Siamo scosti che quest'anno! Sì, bro! Quindi, ragazzi! 3 pere! 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 Ah veste! Quello fa quello che fa per l'artificio! Ora va! Eeeeeee! Tre pere! Tre pere! Tre pere! Tre belle pere! Senti! Eeeeeee! Tre pere! Milan! Vai! Tre pere! A saldo il Milan! A saldo il Milan è est! Eeee! Eeeeeee! Eeeeeee! Scolato! Io stio da buon! Sì, vuoi spiuti perché non fai che... Ciao ragazzi! E ci vediamo mattati con Inca, Incamionato Cioè... Grazie a tutti.